Ciao, nel video di oggi voglio tornare sull'argomento della dominazione del cavallo nei confronti dell'alfiere che già è stato oggetto di un mio precedente video a cui rimando nella descrizione e che tratta in particolare oggi del di posizioni in cui il cavallo domina l'alfiere in uno scenario di posizioni aperte in cui normalmente l'alfiere è più forte del cavallo e quindi normalmente posizioni aperte è più probabile che l'alfiere che domina il cavallo però ci sono delle eccezioni e una di queste è trattata nella posizione che riporto sulla scacchiera che tratta di uno studio di Kubel del 1908 in cui la mossa al bianco e il bianco deve trovare la mossa migliore per riuscire a vincere come vedete il re bianco è vincolato dal pedone nero e dal re che non lo fanno muovere in più il bianco è un pedone passato che vorrebbe andare ad onda e deve però fronteggiare la possibilità dell'alfiere di contrastare la promozione portandosi sulla sulla grande diagonale a1 h8 a questo punto se l'alfiere riuscirà a raggiungere la casa una delle case su questa diagonale avrà facilità a non perdere e a questo punto se la questione è come fare con il cavallo in condizioni come questa in cui è aperta quindi il cavallo fa fatica a combattere con gli alfiere però in quel caso qua e come nei casi che avevamo già visto l'altra volta il cavallo può contare su un elemento che può aiutarlo che è quella di dare scacco al re e ottimizzare la sua posizione in particolare qua vediamo subito proposto al bianco che se il bianco spinge l'alfiere andrà in d4 e le probabilità di vittoria del bianco diventano nulle a questo punto l'unica l'unica possibilità che ha il bianco di impedire alfiere d4 è o giocare cavallo e2 o giocare cavallo e6 da entrambe le case il cavallo controlla d4 e a questo punto il nero dovrà cercare di muovere l'alfiere o in g3 o in h4 per cercare di raggiungere la grande diagonale tramite la casa e5 o tramite la casa f6 però a questo punto la cosa diventa un po complessa e a questo punto per ragionare dovremmo capire e quindi vi invito a fare uno sforzo mnemonico di immaginare una buona casa per il cavallo nel momento in cui l'alfiere si trova in g3 e vuole andare in e5 come fa dove potreste mettere il cavallo per contrastare quella possibilità qua e per far sì che e per far sì che l'alfiere non riesca successivamente raggiungere la grande diagonale a questo punto se facciamo uno sforzo di memoria di immaginazione possiamo quindi cercare di immaginare l'alfiere in g3 e a questo punto quale sarebbe una casa ottimale per il cavallo sicuramente è una casa che controlla i5 a questo punto tra le tante case che controllano i5 dobbiamo immaginarne anche una ideale in corrispondenza della quale il cavallo possa anche fare in modo che l'alfiere da g3 non possa raggiungere facilmente le case della grande diagonale a questo punto con uno sforzo di immaginazione importante possiamo vedere che se il cavallo fosse in f3 a questo punto il cavallo in f3 controlla la casa i5 controlla la casa d4 della grande diagonale però nel contempo impedisce alfiere e1 per andare in g3 quindi se dopo alfiere g3 il cavallo riuscisse a farsi trovare in f3 e quindi poter giocare f3 la partita è persa perché a questo punto la mossa è al nero e il nero non riuscirà in alcun modo a contrastare la spinta h7 h8 quindi questa è una prima osservazione importante e da tenere presente per poi capire come giocare quindi questo primo risultato lo mettiamo qua quindi se l'alfiere è in g3 il cavallo in f3 vincerebbe a questo punto facciamo un altro sforzo di immaginazione e pensiamo a dove dovrebbe trovarsi il cavallo quando l'alfiere invece di g3 è in h4 quindi quando l'alfiere è in h4 lui vuole andare in f6 e a questo punto dovremmo avere il cavallo in una posizione in corrispondenza della quale il cavallo controlla f6 e in più impedisca l'alfiere di andare successivamente a occupare la grande diagonale a questo punto anche qua come prima possiamo immaginare che se il cavallo fosse in e4 se il cavallo fosse in e4 il cavallo nero a questo punto controlla f6 controlla c3 controlla c3 ma in più impedisce anche all'alfiere di andare in f2 e in g3 quindi se l'alfiere andasse in h4 a questo punto e noi avessimo il cavallo in e4 avremmo posizione vinta il bianco potesse giocare cavallo e4 avrebbe posizione vinta perché impedisce l'alfiere f6 quindi controlla la casa c3 e impedisce all'alfiere di andare in case da cui potrebbe raggiungere la grande diagonale che sono g3 e f2 quindi come prima se l'alfiere fosse in h4 sull'alfiere h4 noi potremmo giocare cavallo e4 potendo giocare cavallo e4 a posizione vinta quindi anche qua c'è una posizione notevole che bisogna fare in modo che se l'alfiere va in h4 se l'alfiere va in h4 il cavallo deve andare in e4 a questo punto con questi due obiettivi belli chiari torniamo alla posizione iniziale e dalla posizione iniziale vediamo come giocare a questo punto tra le mosse che avevano detto obbligate di fatto nella posizione iniziale o cavallo e2 o cavallo e6 e vediamo che a seguito di una delle due che sceglieremo dobbiamo essere pronti su alfieri g3 e su alfieri g4 a riuscire sfruttando la possibilità che ha il cavallo di da scacco a raggiungere nel caso di alfieri g3 la casa f3 e nel caso di alfieri h4 la casa e4 a questo punto la mossa che ci consente di far questo è la mossa cavallo e6 in quanto da cavallo e6 a seconda di quello che farà il nero noi potremmo o dare scacco in d4 e poi andare in f3 o dare scacco in c5 e poi andare in e4 quindi con questo ragionamento che è partito dall'approfondimento strategico della posizione abbiamo capito cosa giocare quindi la prima mossa è cavallo e6 e poi a seconda di cosa farà il nero se gioca alfiere g3 giocheremo cavallo d4 e dopo cavallo f3 se giocherà alfiere h4 giocheremo cavallo c5 scacco re via cavallo e4 raggiungendo la pulizia di vita quindi dopo aver fatto tutti questi ragionamenti che hanno come pilastro la comprensione delle due l'immaginazione delle due posizioni sopra di me riportate vediamo il seguito quindi la prima mossa è cavallo e6 a questo punto su alfiere g3 segue l'obiettivo è controllare la casa e5 e impedire all'alfiere di andare in h4 e successivamente in e1 e quindi bisogna andare in f3 come facciamo andare in f3 scacco in d4 re via cavallo f3 a questo punto il cavallo domina completamente l'alfiere il quale non riuscirà a raggiungere la grande diagonale allo stesso modo dopo cavallo e6 se il nero gioca alfiere h4 a questo punto segue cavallo c5 re via a questo punto in quel caso qua addirittura cavallo e4 però vediamo che se dopo cavallo c5 anche re b4 segue cavallo e4 e a questo punto il cavallo controlla la casa obiettivo dell'alfiere f6 impedisce alfiere g3 alfiere f2 e su alfiere e1 controlla la casa c3 a questo punto la partita è completamente persa perché se segue alfiere per esempio e1 pedone spinge alfiere controlla cavallo mangia re mangia pedone quindi la cosa notevole di questo problema è che in una posizione aperta il cavallo sfruttando la possibilità di dar scapio in modo opportuno il re domina completamente l'alfiere nel tentativo che ha l'alfiere di cercare di raggiungere la grande diagonale vediamo adesso un altro esempio che si riconduce a un problema di ring uno studio di ring del 1926 che riporto sopra di me e riporto anche sulla scacchiera anche qua è notevole come in questa posizione qua grazie agli elementi che ci sono sulla posizione il bianco come protagonista del cavallo riesce riesca in qualche modo a controllare praticamente tutte le case bianche quasi tutte le case bianche che ha a disposizione l'alfiere perché in questa posizione qua c'è un pedone in f5 che se non ci fosse renderebbe la patta molto probabile la posizione è di patta teorica mentre la presenza del pedone f5 del nero fa sì che la posizione è vinta per il fatto che l'alfiere è completamente dominato in questa posizione e lui è dominato in questa posizione perché in questa posizione il bianco ha a disposizione uno scacco di scoperta quello scacco di scoperta qua tenuto come minaccia cioè non fatto scattare immediatamente fa sì che per esempio in questa posizione qua la casa a4 non è a disposizione dell'alfiere perché la casa a4 dopo l'alfiere a4 se l'alfiere fosse in a4 il bianco potrebbe far scattare lo scacco di scoperta giocando cavallo c3 mangerebbe l'alfiere allo stesso modo la casa b5 anche se controllata dal cavallo in quel caso qua anche dall'alfiere ma allo stesso modo la casa c6 quindi se l'alfiere fosse in c6 il bianco potrebbe giocare cavallo d4 e mangiargli l'alfiere quindi l'alfiere in c6 non può andare così come grazie sempre allo scacco di scoperta l'alfiere non potrà andare in d5 perché seguirebbe cavallo f4 scacco e l'alfiere verrebbe perso l'alfiere non può andare in c4 perché c'è l'alfiere l'alfiere non può andare in b3 perché seguirebbe cavallo c1 scacco e dopo cavallo mangia l'alfiere l'alfiere non può andare in a2 perché anche qua seguirebbe cavallo c1 scacco e l'alfiere verrebbe perso allo stesso modo l'alfiere non può andare in e6 perché seguirebbe cavallo f4 scacco e cavallo mangia l'alfiere e allo stesso modo l'alfiere non potrà andare in g6 perché seguire cavallo f4 scacco re via cavallo mangia l'alfiere e allo stesso modo non può andare in h5 quindi la presenza dello scacco di scoperta fa sì che il cavallo controlli di fatto tutte queste case qua che sono inibite all'alfiere in più per la presenza dell'alfiere l'alfiere ed il re non potrà andare in a6 e l'alfiere non può andare in g7 in questa posizione quindi vedete che praticamente grazie come già detto all'elemento peculiar di questa posizione scacco di scoperta vediamo le poche case di spolizione dell'alfiere quindi l'alfiere può solo muoversi in d7 e 8 f7 g8 e h7 a questo punto la prima mossa una volta capito il dominio esercitato dei pezzi particolarmente del cavallo in questa posizione vediamo che che se il re nero minaccia l'alfiere questi è costretto a spostarsi in d7 a questo punto se il re lo minaccia l'alfiere deve andare in e8 e il nero il bianco continua a minacciarlo l'alfiere deve andare in f7 a questo punto se il re lo minaccia ancora l'alfiere deve andare in g8 e a questo punto se il re lo minaccia ancora l'alfiere deve andare in h7 e dopo re g7 l'alfiere è perso quindi è molto elegante la soluzione e anche dal punto di vista estetico è bello è elegante l'immagine che si è generata che sintetizza il ragionamento fatto a questo punto la riporto anche sopra di me quindi una volta fatto questo ragionamento possiamo vedere le mosse e a questo punto la mossa corretta è re b8 ricordo che nel caso ci fosse scacco di scoperta subito quindi nel caso erroneamente il bianco attivasse lo scacco di scoperta la partita sarebbe fatta perché il nero potrebbe giocare f2 e su re b8 potrebbe giocare re 3 con posizione in quarta quindi nella posizione iniziale la mossa corretta è re b8 e a questo punto secondo lo schema sopra riportato segue questa danza di alfiere e re in cui l'alfiere è costretto ad andare in e8 perché su alfiere a4 c'è cavallo c3 e dopo il cavallo mangerebbe mangerebbe l'alfiere dopo magari vediamo la variante segue re d8 re f7 re e7 alfiere g8 re f8 alfiere h7 re g7 a questo punto è l'alfiere perso vediamo su se invece giocare alfiere 8 dopo re c7 gioca alfiere a4 segue cavallo c3 scacco re 1 cavallo mangia f4 e adesso vediamo come il 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 bianco coopera con alfiere cavallo per impedire la produzione lui il caso obiettivo del cavallo da re g3 in modo tale che alfiere cavallo controlla g3 e dopo la posizione è vinta quindi una volta che viene controllata la casa di promozione il re bianco avrà facilità ad andare a mangiare il il pedone e dopodiché vincerà con con la tecnica di alfiere cavallo e re contro re che ricordo che è già stato oggetto di un mio precedente video e anche qua rimanderò nel link per chi volesse rivederlo quindi direi che con oggi è tutto per me sono due esempi molto molto eleganti di posizioni notevoli perché normalmente in posizioni aperte è difficile che un cavallo domini in questo modo un alfiere però questo ci aiuta anche a capire e sfruttare le potenzialità del cavallo e questo ci potrebbe venire utile durante il gioco con oggi è tutto spero sia stato interessante vi saluto e vi do un appuntamento al prossimo video ciao ciao